Siamo con Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto che proprio da qualche giorno ha lasciato il Movimento 5 Stelle. Una decisione clamorosa, certamente come eco, però a mio avviso già certe situazioni di rottura stavano maturando per poi avere l'esplosione finale, una specie di punta dell'iceberg, poi è comparso l'iceberg ma c'era sotto una situazione che bolliva, che macinava. E allora Massimo Battista, credo che la goccia che abbia fatto traboccare il Vazzo sia stata la questione Ilva, la falsa promessa della chiusura. Certo, noi abbiamo tradito il mandato elettorale, abbiamo detto in campagna elettorale sia le comunali... Ma che dice noi e non loro? Se non è che inconsciamente si sente ancora 5 Stelle. Assolutamente no. Noi abbiamo tradito il mandato elettorale dove avevamo detto ai cittadini e ai lavoratori dell'Ilva che avremmo chiuso quello stabilimento con un programma ben preciso. Parlavamo di smantellamento, bonifiche e decontaminazioni di quelle aree che attualmente sono già chiuse e che a breve saranno chiuse. Io mi aspetto anche da partitura delle scuse. Mi aspetto delle scuse per il semplice fatto che, come ti ho sempre detto, io ho giocato questa finale. Per me era una finale, dottor Abate, era una finale da giocare fino in fondo. L'ho persa, ho preso atto di questa sconfitta. Vado avanti per il rispetto di quelle 1014 persone che hanno riposto fiducia nella persona di Massimo Battista. Con una piccola differenza. Che Battista sulla scheda elettorale è stato votato. La gente ha scritto Battista. Poi c'è qualcuno che si trova in qualche postazione forte di quel simbolo che ha trainato in tutta Italia. Magari ogni riferimento ai parlamentari annevoli è puramente casuale. Ma questa è una mia deduzione. Il discorso delle scuse è questo. Allora qui io ho preso sin dall'inizio una posizione molto dura nei confronti del Movimento 5 Stelle. Bene hai fatto a staccarti perché tu dici io ho una mia linea, una mia storia, non posso cancellarla. Però c'è anche da dire che già tutto l'inganno Ilva si era intravisto almeno quando Di Maio venne qui a Taranto all'inizio della campagna elettorale e già la parola chiusura misteriosamente non compariva. Allora io da un punto di vista sociologico, umano, io apprezzo il cittadino che ha votato i 5 Stelle per variare in perfetta buona fede. Perché giustamente uno dice e chi doveva votare? Il PD? Forza Italia? Ok. Però ci si doveva rendere conto che il rimedio 5 Stelle purtroppo era peggiore del male. Perché abbiamo e di questo mi assumo tutte le responsabilità un ignorante che è Luigi Di Maio il quale viene a bestemmiare sul museo di Taranto. Luigi mi stai facendo tante domande. Anche tu non scordare che in tempi non sospetti prima delle candidature mi hai chiamato, mi hai chiesto un paio di volte la candidatura perché volevi lottare anche tu all'interno con una tua ben precisa posizione scusami e poi mi dici, una tua ben precisa posizione che è uguale a quella che io ho portato avanti in questi anni dove noi ormai non possiamo più fare a meno di vedere morti tutti i giorni questa città che è nel degrado più assoluto e che non può campare ancora per i prossimi 30 anni di Ilva. Detto questo, poi mi devi far chiarire sulla vicenda. Ci mancherebbe. Per quanto riguarda quando tu parli di Di Maio io ti posso garantire ho avuto due incontri. Io sono stato chiamato dalla segreteria del Mise il 12 giugno, sono stato chiamato a mezzanotte per essere presente qualcuno pensava che io non ci fossi andato. Il 13 io sono stato, mi sono messo nella macchina e sono andato al Mise e ho spiegato in quattro ore e mezza di Maio quello che accade in quello stabilimento quello che accade in questa città, li ho spiegati in chiari lettere e con me a quel tavolo erano presenti l'altro consigliere comunale, i parlamentari e l'euro parlamentare. Dopo quell'incontro ce n'è stato un altro il 30 luglio telefonico anche le altre quattro ore avvenuto subito dopo quel tornado che c'è stato al quartiere Dambui che voi tutti un po' ricordate. Dopo quel giorno Luigi io avevo forte speranza infatti feci un posto, in questi mesi ho scritto veramente poco, feci un posto perché io ero convinto che si stava incanalando e si stava prendendo la strada giusta. Io da quel giorno non ho saputo assolutamente più niente. Ho saputo che l'incontro del 6 settembre lì al Mise alle ore 14 è stato fatto il giorno prima in una ristretta nascosta da tutti e dove Di Maio ha accelerato l'accordo con i sindacati e Mittal. Io lì mi sono sentito tradito da chi mi doveva rappresentare e che non ha tenuto conto né della base né dei consiglieri comunali eletti. Intanto c'è da dire una cosa, per quanto riguarda il discorso delle candidature io ero, sono e sarò, ero, sono e sarò sempre disponibile a candidare con forze che siano trasversali ai partiti e che abbiano come obiettivo la chiusura dell'Ilva. Benissimo. La stessa mia disponibilità, espressa nei confronti dei 5 Stelle, pari pari, l'avevo espressa nei confronti di Bonelli e dei Verdi. Se poi Bonelli si allea con il PD di Renzi, se poi i 5 Stelle fanno l'accordo con la Lega, se poi i 5 Stelle cambiano musica e diventano più sistema del sistema, io non è che sono il pazzo. Io avevo visto, forse perché, come si suol dire, a malignare si fa peccato ma molto spesso si azzecca, il tradimento che mano a mano si stava consumando perché si era passati anche linguisticamente da un certo, il brodo, come dire, si stava allentando sempre più, stava diventando acqua fresca. Da chiusura assoluta è diventata chiusura delle fonti inquinanti, poi chiusura progressiva delle fonti inquinanti. Luigi, queste cose vanno spiegate. Io sono sempre più convinto che tanta gente non conosce quello stabilimento, come ho fatto stamattina lo stesso in assemblea, siamo sulla stessa lunghezza d'ordine. Io sono stato chiaro dall'inizio, quello stabilimento andava chiuso, poteva essere chiuso in una determinata maniera. Questo non è stato fatto, si è dato la prosecuzione a lavorare nelle stesse condizioni che si opera da oltre 20 anni, qualcuno ha fatto una scelta. La mia scelta, io ti dissi in un'intervista al Comune, ti dissi, caro dottor Abbati, aspettiamo il 15. E do atto alla coerenza di Massimo Battista. Non posso chiaramente ritenere politicamente coerente Francesco Nevoli, ma ognuno è se stesso. Dottor Abbati, ognuno risponderà delle proprie azioni. In questo momento io rispondo a nome di Massimo Battista e ribadisco che la gente di Taranto, i lavoratori di Taranto sono stati traditi. Adesso non ci sarà occasione, ma quando vorrai. Anche su quell'accordo tanti non ne stanno parlando. Si parla di 10.700 lavoratori. Cioè quei 2.700, 2.600 superi sono tutti per la città di Taranto. Si perdono altri 2.600 posti di lavoro. Però una cosa c'è da dire. Io ho detto più volte che la struttura, il modus operandi, la vita interna al movimento, l'organizzazione, i rapporti interni, se prima erano nati in un modo bello, l'uno vale uno. Oggi già dalle candidature ci sono state delle scelte verticistiche che hanno stravolto completamente quel clima di democrazia che partiva dal basso. Poi, dobbiamo anche dirlo, lo scollamento completo con i parlamentari. Perché i parlamentari 5 Stelle, la verità è questa. Forse li capisco anche, li compiango, nel senso che non sapevano che scusa dire e che dovevano fare. E hanno iniziato a nascondersi. Tranne poi il signor Vianello che deve decidere se politicamente è carne o è pesce. Perché qui non si capisce, Di Maio consente l'aumento della produzione dell'ilva e Vianello l'indomani urla che l'unica ilva che può esistere è quella chiusa. Io non ci ho capito nulla. Ripeto, dottor Abbati, ognuno risponde delle proprie azioni. Ti do ragione quando dici che ormai la base, l'attivismo non conta più. Ci sono tantissime brave persone che continuano a mettere l'anima, però purtroppo ormai le decisioni vengono prese dal capo politico. Anche in questo caso, vorrei dire, c'è un ministro dello sviluppo economico, un ministro del lavoro che oltre a fare questo fa anche il capo politico del più grande partito politico. Questo è relativo perché lo faceva pure Renzi, se vogliamo. In effetti parliamo del partito più votato in Italia. Quando noi diciamo una legge speciale per Taranto, io l'altro giorno sembravo di ascoltare Renzi, in questi anni non ho sentito tante di leggi per Taranto, però concretamente ad oggi non abbiamo visto niente, assolutamente niente. Allora se noi vogliamo continuare a buttare fumo negli occhi alla gente, io personalmente non ci sono e combatterò all'interno perché io ho capito una cosa e questo Luigi ti prego, adesso andrà in onda, metterai sui social perché ormai la gente vive di social. È un bene ed un male. Infatti ti posso garantire che in questi ultimi giorni il mio video della conferenza stampa ha avuto forse 800.000 visualizzazioni, hanno mosso tutta l'Italia per attaccarmi, tutti alcuni attivisti, però bisogna stare attenti perché poi quando diventano le offese personali verso la famiglia, io ti prego di stare attenti quando si postano i video e cose perché poi ognuno può esprimere tutto il proprio pensiero. Chi commenta si assume la responsabilità. Come io me ne sono sempre assunte e continuerò a girare in lungo e largo questa città come ho sempre fatto, senza scorta, senza bodyguard, sempre tranquillamente e guardare negli occhi la gente di Taranto. Considerando la vita interna dei Cinque Stelle, andando un po' indietro, da un gruppo che era originario, un meetup legato proprio alla nascita dei Cinque Stelle a Taranto, poi c'è stata l'entrata massiccia di un peso forte da parte di parecchi esponenti dei liberi e pensanti che sono entrati, si sono iscritti nel Movimento Cinque Stelle. E qui si è verificata una cosa perché anche al di là dei liberi e pensanti successivamente con queste candidature calate dall'alto, l'antica militanza, coloro i quali erano i pazzi della prima ora che gridavano Forza Grillo, che gridavano il Vaffa Dei, automaticamente questi sono stati schiacciati dalla nuova forza. Qualcuno dice, e forse non a tutti i torti, ci liberi e pensanti hanno fagocitato, che ora i numeri c'erano, no, i numeri c'erano. Uno dice io entro in un partito, ho la maggioranza e mi prendo il partito in mano. Però c'è anche l'antica militanza che dice è io che ho accelevusiva e accepighiago Cagni. Paradossalmente, ma qualcuno pensa realmente che ci fosse stata l'altra parte dei meetup o degli attivisti storici, qualcosa sarebbe cambiato. Invece la domanda te la pongo a te. Quando tu fai queste esternazioni, ricordo che c'è un europarlamentare che è ancora lì, oggi ha fatto un video dove... Eh, scusami. A me questa si deve, si vuole riguadagnare la candidatura. Tra cinque mesi si va a votare per... Non so se verrà eletto candidato addirittura. A me non interessa, tra cinque mesi si andrà a votare di nuovo e lì forse ci sarà di nuovo il matrimonio su quello che tu stai dicendo. Quando tu parli, il comitato non è entrato nel Movimento 5 Stelle. Alcune persone... Autorevoli, tu sei un autorevole esponente. Eri un autorevole esponente. Io ripeto, io rifarei altre mille volte perché il mio pensiero era quello di giocarmi la partita sulla questione Ilva fino in fondo. Ho perso la partita, ho preso la mia decisione, per rispetto dei miei elettori continuo a fare perché non è che poi abbiamo solo un problema Ilva a Taranto, no. Penso che in questo anno da consigliere comunale di opposizione sto dando un po' di fastidio, sto facendo emergere delle cose che non pubblichiamo sui social ma facciamo i fatti. quindi quando tu dici i vecchi attivisti ancora ci sono dentro. Molti sono usciti perché hanno visto che si erano ribaltate le cose. Io sto dall'inizio, arrivo uno dell'ultima ora e mi scavalca. Quello che dici tu è giustissimo. Ti dovrebbe rispondere qualcuno che ha scelto le candidature, che ha deciso le candidature. Io ti posso mettere la mano sul fuoco che io personalmente di tutte le candidature non sono stato messo al corrente. Per concludere, il futuro politico di Massimo Battista, attualmente consigliere comunale indipendente. Ma io gioco a fare le previsioni anche per sdrammatizzare un po'. No, sull'inganno di Di Maio l'avevo preso in pieno, onestamente. Ma si era capito, non ci voleva chissà quale intuito di Volpe. Massimo Battista con Italia in comune, il movimento di Pizzarotti. No, è un'ipota domanda, anche se fosse mica una bestemmia. Sei proprio fuoristrada, ti posso garantire, ma al 100% che non esiste. Beh, in bocca al lupo Battista e come dire... Personalmente ancora non ho sentito le scuse del dottor Abbato. Io voglio chiarire, io ho preso delle posizioni critiche, dure, nei confronti di Massimo Battista perché difendeva a spada tratta, in buona fede, un movimento che già stava facendo acqua da tutte le parti, che stava spudoratamente tradendo i tarantini. Questo tradimento è stato ufficializzato ai primi di settembre. È come uno che sospetta che la propria moglie lo tradisca e poi si trova la moglie a letto con un altro. In quel momento... Trovami un posto, un comunicato stampa, dove io abbia difeso, io ho difeso sempre quello che noi abbiamo raccontato in campagna elettorale. Ci sono 600.000 volantini distribuiti per la città di Taro. Nessuno sta dicendo, io ho sempre asserito che quelle promesse erano promesse farlocchie. Il 7 settembre Massimo Battista, con l'11 che ha fatto la conferenza stampa, ha preso le distanze. Io ho difeso sempre il programma elettorale del Movimento 5 Stelle. Sì, ma anche io posso difendere quel programma perché a tutte le persone poteva piacere quel discorso. Però, come si suol dire uno, predica bene e razzola male. Se poi fa il contrario di quello che promette... Se ne va. Però era un lapsus dalle dimissioni. Dove? Ho fatto la battuta. Siccome hai detto... Se ne va. Se ne va. Certo che se ne va. Dalle dimissioni, pensavo, da dimissioni da consigliere. Però c'è quel discorso del rispetto degli elettori. Io, anche qui, caro Luigi, ho sbagliato nel 2005-2007, Massimo Battista è sempre stato eletto. Perché la gente ripone fiducia in Massimo Battista. Io in fabbrica ho preso 850 voti perché i lavoratori mi hanno sempre portato rispetto. Perché io sono stato una persona garantisca e coerente con quello che ho sempre asserito. Questa volta non faccio lo stesso errore. Perché in Fiume mi sono dimesso. Ci sono 1014 persone che hanno riposto fiducia. Te l'ho detto prima e te lo ripetisco adesso. Hanno scritto sulla scheda elettorale Battista. Hanno proprio detto io voto Battista. Non ho messo il voto sul simbolo, caro Luigi. E io per quale... Però uno comunque può dire, al di là della stima verso Battista, c'era anche il movimento che uno diceva, magari avrei votato Battista, non l'avrei votato in Forza Italia, per esempio. È bene che 1014 voti senza campagna elettorale, senza aver speso 22 euro speso io in campagna elettorale, 1014 voti vuol dire che tanta gente ripone fiducia. E io, queste persone, siccome ti posso garantire che non è che mi chiamano solo per la questione Elba, a me tanta gente mi chiama per altri problemi, tantissimi problemi, che io sempre in silenzio e a fare i spendi cerco di risolvere. Beh, in bocca al lupo Battista. Mi auguro di poter fare battaglie insieme a Battista e insieme a tutta la parte sana di Taranto per la chiusura del mostro e per smascherare l'ipocrisia a 5 stelle, va detto. Ti ripeto Luigi, io continuerò le mie battaglie finché questa città risplenda, questa città ha dato al paese, questa città deve smettere di piangersi addosso e pensare che Taranto non è solo grande industria, ma Taranto è ben altro. Grazie a tutti.